la sezione answer the regard ci regala oggi una bellissima pellicola viene dal brasile e racconta una storia di morte ma soprattutto di affermazione di autodeterminazione da parte di un ragazzino che cerca di sfuggire alle sorti prestabilite della sua tribù dalle regole ancestrali la vita la morte il cerchio sacro che le collega sono al centro del documentario the death and the others di joao salviza e rené naderme sora è una produzione portoghese il lungometraggio è stato girato nella comunità indigena de krajo nel brasile del nord e spicca tra i titoli answer the regard la scena d'inizio è di forte suggestione la quiete della notte nella foresta attorno al villaggio niente spiriti niente serpenti il quindicenne hijack ha incubi da quando ha perso il padre cammina nel buio il corpo coperto di sudore si muove con paura un canto proviene da lontano tra le palme la voce del padre lo chiama verso le cascate è tempo per il ragazzo di organizzare la cerimonia funebre per il genitore affinché la sua anima possa partire verso il villaggio dei morti il lutto deve terminare per un adempiere al suo dovere e per evitare il suo destino di diventare uno sciamano il quindicenne scappa dal villaggio verso la città dove dovrà affrontare la realtà di essere un indigeno in mezzo al brasile contemporaneo grazie a tutti grazie a tutti